Uno dei grandi talenti del calcio italiano, Luis Asa, lascerà la Juventus. Oggi parleremo di questo argomento che sta spaventando la Juventus e causando mal di testa a Giuntoli. Eletto miglior giocatore dell'ultimo europeo Under-19 con l'Italia, Luis Asa potrebbe, nei prossimi giorni o settimane, fare le valigie e lasciare la Juventus. Il giovane ha appena cambiato agente, e il suo nuovo agente, Fali Ramadani, sta facendo pressione sulla Juventus. Fali Ramadani sta chiedendo un salario più alto per Asa, oltre a un rinnovo più lungo, forse fino al 2031. Ricordiamo che Asa ha un contratto fino al 2025. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra Ramadani e Giuntoli per discutere questa situazione. Se non ci sarà un accordo, Ramadani è pronto a cercare un nuovo club per Asa. Secondo il Tutto Sport, Ramadani è già in contatto con club della Bundesliga. Credo che la Juve dovrà soddisfare le richieste della gente di Luis Asa. Certamente, Giuntoli non lascerà che un giovane così talentuoso lasci il club prima ancora di salire in prima squadra.